Allora, è un'attrice bravissima, una donna bellissima, una cantante strepitosa, una ballerina insuperabile, però non è venuta stasera e allora intervistiamo Valentina. Ma vattene, ma guarda questo, ora ce lo mando subito. Ma no, ma no, è gioco. Vabbè, a parte gli scherzi, eh. Che vuoi sapere? Vi sapete lo spettacolo nuovo? Certo, certo. Mi sono lanciata in questa follia che, non lo so che mi ha detto il cervello, ma sono contenta che mi abbia suggerito di fare questa cosa, perché, so, ho scoperto la canzone romana e sono impazzita. Ho coinvolto subito i ragazzi perché avevo bisogno di cantare la Roma che io non conosco e che sto conoscendo grazie alle canzoni, perché sono una ragazza, vabbè, un'ex ragazza di periferia che sta a conoscere, che ti piacerebbe. Una ragazza di periferia che conosce Roma, al centro di Roma, attraverso le canzoni che sono così dolci, così amare, così romantiche, così evocative. Ed è partito un viaggio, un viaggio che ci porterà a chissà dove. Speriamo da al centro. Dove? A un altro centro. Un giro per il mondo, a portare la nostra Roma. Cioè, perché dai, c'è tanta roba da raccontare e le emozioni sono tantissime. Spero in minima parte di riuscire a trasmetterle e se in come accadono i fatti c'è un segno, abbiamo la fortuna di avere un debutto eccellente di questo spettacolo, perché la prima volta che andiamo in scena sarà sul palco di Lando Fiorini, al PUF, grazie a un'idea di Francesco Fiorini e io sono lusingata. Cioè, proprio non avrei potuto desiderare un auspicio migliore per questo spettacolo. Allora, guarda, ti lascio il testimone e presenti tutto il gruppo che suona insieme a te. Cioè, anzi, vabbè, è il gruppo. Sono quattro matti che ho trovato per strada, così erano i primi disponibili. Sazione termine. Vincenzo Meloccaro. Buonasera. Ai fiati. Carinetto e sax soprano. Daniele Trissati. Buonasera. Chitarra, classica ed acustica. E parrucchiere. E parrucchiere anche. Stefano Napoli. Ciao a tutti. Contrabbasso. Contrabbasso. Anche tuo fratello, se lo sbaglio, no? Vicino a mio fratello. E invece Edoardo Simeone. Al pianoforte. Che però ha anche curato gli arrangiamenti di questo spettacolo. Abbiamo cercato di fare un'operazione un po' contaminata, andando verso le sonorità. Tango da una parte. Flamenco. Un po' di burlene. Swing. Perché no? Insomma, abbiamo cercato di cucirci addosso una veste un pochino diversa, sempre mantenendo la sacralità del repertorio romano. Allora, titolo. Lo dico io. Una volta c'era Roma. No, si dice così. E una volta c'era Roma. Ma si parte dal Puffe stasera, che è una data one shot, ma per me non è una data one shot. È una data one shot, è una data che devo dire a tutta. È una partenza. Mi sto a sentire male, io devo stare sul Puffe. È il tempo della canzone romana, ma io che ce faccio qua, regà? C'ho paura. Guarda un zitto. Se siamo venuti noi, noi facciamo da garanti. Noi ci siamo. Il bello e il cattivo tempo. Ciao.